25 giugno 1991. La Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. Il 30 dicembre precedente, il popolo sloveno si era pronunciato per il referendum sulla propria indipendenza, approvata con l'88% dei voti, malgrado la netta opposizione di Belgrado. La sera del 25 giugno viene dunque convocato in seduta plenaria il Parlamento sloveno per discutere e votare l'indipendenza. Tutti sono favorevoli, tranne il comandante delle truppe jugoslave. Nel corso della seduta, poco prima della votazione definitiva, il Presidente del Parlamento riceve un telegramma dal Parlamento croato, nel quale si comunica che anche la Croazia è diventata indipendente.